Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale! Benvenuti di volta al nostro canale! Oggi ci troviamo a Roma e vi portiamo a fare una passeggiata nel ghetto ebraico. Oggi oggi ci troviamo a Roma e vi portiamo a prendere il ghetto ebraico. E...vamo lì! E...vamo lì! E...vamo lì! E...vamo lì! E...vamo lì! E...vamo... ci siamo fermati per una pausa, avevo bisogno di mangiare, una bella ricarica. Ci troviamo in una buonissima, bellissima pizzeria, qui diciamo nella zona in cui ci sono tutti i ristoranti. e ovviamente sono tutti prodotti kosher. in una buonissima, in una buonissima pizzeria. 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 in una buonissima. in una buonissima pizzeria. in una buonissima pizzeria e in una buonissima,UP in una buonissima pizzeria. e... Grazie a tutti. 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 Siamo arrivati alla fine di un altro video. è da qui immersi nella storia che vi diamo il nostro saluto e per chiunque passi per Roma consigliamo di venire a visitare il Ghetto Ebraico come ha detto poco fa William il nostro consiglio è quello di lasciarsi trasportare dalle emozioni che lo stesso Ghetto trasmette e per voi che non siete iscritti al nostro canale si iscrivetevi ora e anche molto grazie a voi che già siete iscritti per chi ancora non siete iscritti si iscrivetevi al nostro canale e... da prossima e? 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.